Un bel Milan inizia bene l'avventura in Europa League battendo 3-0 nell'andata del play-off il Rennes-Sansiro. Doppietta di Love2Chic e terza rete di Rafael Leao. Partita giocata bene, non potevano esserci anche più gol da parte della squadra rossonina, però anche i francesi hanno avuto le loro occasioni e il risultato giusto. Si va in Francia con un buon risultato, quindi oggi si è visto un bel Milan in campo. Tutti i reparti hanno sbagliato poco, quindi ottima partita. Love2Chic che si sta inserendo sempre bene nei meccanismi di Pioli, infatti sono parecchi gol da quando il tecnico gli ha chiesto di essere più propositivo e più dentro le azioni rossoniere e quindi cercare di finalizzare la fase offensiva. Infatti sono arrivati oggi due gol, due gol col Bologna, il gol con l'Empoli e quindi un buon 2024 iniziato da parte del centrocampista inglese. Stasera si è visto tanto, è un bellissimo gioco e speriamo ora di continuare così. La prossima sarà domenica sera a Monza e poi giovedì il ritorno in Francia contro il Rennes. Si va con un buon 3 a 0.